Sono arrivata in Italia a 16 anni, mi pressa e chiusa subito dentro una stanza buia per circa due mesi dove venivo picchiata, le sigarette spente addosso, ho portato i clienti in quella stanza e i loro stessi maniaci mi violentavano. Mi aveva picchiato con violenza, mi aveva strapato l'orecchio destro con la pinza che si tirano i chiodi, l'orecchio destro sinistro mi l'ha rotto, mi aveva rotto tre costole e avevo un polmone perforato. Mi ha piccato tanto, io non ho avuto a volare in strada, mi ha piccato tanto, non avevo una scelta. La maggior parte dei clienti sono dai 35 ai 45 anni e comunque sia padre di famiglia. non ti trattano come una persona ma come un vero e proprio oggetto per la loro soddisfazione fisica.